Ok, ciao ragazzi, faccio questo video per enunciare che questo cervello è riuscito a arrivare a qualcosa di unico al mondo, ma questo video è più rivolto ai presenziatori, anche se tu persona normale vuoi acquistare poi il mio effetto, nessun problema. Un mazzo di carte servirà e basta, l'effetto si chiama Spettatore a Cannes ed è l'invenzione più grande che mai esistita, e lo prendo, lo dico con presunzione, in Italia, nella magia, nel campo a Cannes, ovvero Bearglass F, che è la versione di non toccare nel mazzo. Tu, principiante, professore, chiunque sei, farai, subirai dal tuo spettatore il Bearglass F, la Cannes reale senza non toccare nel mazzo. Come funziona? Andate a vedere i video, che linkerò qua sotto, andate a vedere com'è la modalità per averlo, dovrete fare due video. Il primo video dovrete dire semplicemente, Spettatore a Cannes ti amo, gridandolo, gridandolo, perché qua c'è un'enfasi che fa paura per una cosa del genere. Secondo, vedete, ho gridato, ho tranquillo, Stefano Nobile sei un genio, basta, non chiedo altro, perché un domani, quando questo stronzo non sarà più, deve essere ricordato. Tutto qua. Quindi, se lo vuoi vedere, ha un costo 50 euro, se vuoi optare per l'altra soluzione, due video autenti, mi raccomando. Attenzione ai furbetti, che pensano di fare due video e poi, all'amico, guardate la spiegazione così, ogni persona mi deve mandare il link del suo video, il suo canale, io lo catalogherò, lo archivierò in un database dove sono già organizzato per vedere se c'è poi un esempio di frode, ecco il mio cellulare, e vedrò se poi un'altra persona sconosciuta che non ha fatto i due video dedicati a me, possiede Spettatore a Cannes. Spettatore a Cannes, chi lo avrà, deve tenerselo stretto, devono sbavarvi per averlo. Me ne sto fregando anche del cellulare, perché per una cosa così, un evento così mondiale, è giusto che faccia questo. Avrete un miracolo reale, Spettatore a Cannes. Ciao ragazzi, finisci con noi.